Attiva Vodafone Christmas Card Hai ancora tempo fino al 12 dicembre Cari amici Non mancate la nuovissima Spassosissima edizione di Paperissima Uno spettacolo elegante Comico ma elegante Per tutta la famiglia Papere internazionali Grandi ospiti I vostri errori Gli errori di Michelle Le papere di Jerry Ma quali papere di Jerry? Eh lascia fare Ma ce ne può Lascia fare Ma come lascia fare? Regia Vuoi allargare un po' Ma che regia? Ma cosa vuoi allargare? Regia Allargate un attimo Ma no Ma se eravamo d'accordo Ma dai Ma se mi obbligate a fare Ma non è possibile Jerry Non è possibile cosa? Ma come c'è da questa mica Una papera Questo è un errore Che mi avete provocato voi Paperissima Un programma di Antonio Ricci Venerdì alle 21 Su Canale 5 Aver coraggio Al centro della settimana C'è Andriy Shevchenko Domani Su Corriere della Sera Magazine Morbida e leggera crema di ricotta La freschezza dei frutti rossi Non avete mai provato niente di simile Sono le nuove ricodelizie di Galpi Assolutamente nuove Scandalosamente buone Cinema Le nouveau parfum pour femmes D'Yves Saint Laurent Sapientino fa giocare Imparare Crescere E ogni volta è più divertente Sapientino Il sorriso intelligente Oggi c'è il villaggio degli orsetti Papa Orso Vai a raccogliere i mirtilli nel bosco Ho una fame Subito Che magia gli orsetti che parlano E con le schede ti diverti giocando con i numeri Gli animali Le forme e i colori Sapientino Il sorriso intelligente Sapientino I giochi educativi più amati dai bambini e dalle mamme La missione dei ricercatori Oral-B è di proteggere denti e gengive Con Oral-B Professional Care 7000 Il suo movimento 3D pulendo in profondità previene e aiuta a far regredire i più diffusi disturbi gengivali Oral-B Professional Care La scelta dei dentisti Provalo con l'idropulsore OxiJet e scoprirai un'igiene orale perfetta Nel business dicono che si può capire molto di un uomo dal suo orologio Dalle sue scarpe Dalle compagnie che frequenta Samsung D500 Bluetooth 96 MB di memoria Fotocamera da 1.3 megapixel Lo stile del business Per anni la nostra casa è stata il mondo Ci siamo fermati per amore Grazie Motu Arancio Oh che odore Ma la mamma ha un trucco Basta un solo trucco E con Glad Micro Spray Bagno Che profumo E per la freschezza di tutta la casa C'è il nuovo Glad Micro Spray Grandi Ambienti Glad Micro Spray Un tocco di freschezza Certe sfide non mi spaventano Ma avevo paura di provare una sottilissima lente a contatto Poi il mio ottico mi ha parlato di Focus Dailies Idratano i miei occhi al solo contatto Subito confortevoli e ogni giorno un paio nuovo Focus Dailies Comfort a contatto Tu puoi fermare il tempo Godeti tutta la magia del Natale Entra in Vodafone E con Infinity Dopo il primo minuto Palle gratis quanto vuoi Il Natale Vodafone È tutto intorno a te Per dare più sapore alle feste Chiedete del parmigiano reggiano a Babbo Natale Che arriverà su una slitta con solo overe renne Parmigiano reggiano Non si fabbrica, si fa Little Mommy impara a far pipì Ora ti insegno a far pipì sul vasino Fa la pipì davvero Brava E ora mettiamo le mutandine Quante coccole Anch'io voglio le mutandine come i grandi Little Mommy Da Fisher Price Maestro ma cosa fa? Porto per il weekend Ma il pennettone Maina non è ancora pronto Il gran nocciolato Maina deve lievitare due giorni Lui riposa qui E io a San Moritz Maina, piano piano Buono buono Un lifting? Un trattamento laser? Un peeling? Se sei come me Non ci pensi neanche La nuova linea Rigenerist da Oilo Volaz Fa qualcosa di diverso Il suo complesso aminopeptidico Stimola la naturale rigenerazione della pelle Con risultati davvero sorprendenti Pelle compatta Più luminosa Come rigenerata E niente misure drastiche Nuova linea Rigenerist da Oilo Volaz Ama la pelle che hai Ultime notizie dal TG.com Cifre spaventose dal rapporto sulla fame nel mondo Reso noto dalla FAO Sono 5 milioni i bambini che ogni anno muoiono per le carestie In grande aumento anche il numero totale delle persone senza cibo Venerdì il Consiglio dei Ministri proclamerà lo stato d'emergenza Per le zone della Sardegna colpite dalla violenta ondata di maltempo Oggi salvati dagli elicotteri Tre pastori dispersi Polemiche in Gran Bretagna e in Vaticano Per un allestimento di Madame Tussaud Il famoso Museo delle Cere londinese Ha raffigurato David Beckham e la moglie Victoria Alla stregua di San Giuseppe e della Madonna Per tutte le altre notizie venite a trovarci Oltre che su www.tgcom.it Anche su Media Video e Media Video Digitale Il teletext di Mediaset curati dalla redazione di TG.com Vi lasciamo al meteo e alla seconda parte del film Attiva Vodafone Christmas Card Hai ancora tempo fino al 12 dicembre Quattro nomination Vuoi avere il mio numero? Assolutamente, sì Aspetta, senti questo Sei sono gli anni che ha l'altra mia figlia Otto è l'età di mio figlio Premio Oscar a Giulia Roberts Due le volte che sono stata sposata e divorziata 16 sono i dollari che ho sul mio conto in banca Un film tratto da una storia vera Io sono sveglia, sono una gran lavoratrice Farò qualsiasi cosa e non me ne vado da qui senza un lavoro Un impegno, forte come la verità Non mi faccio implorare Giulia Roberts, Albert Vini Niente contributi Erin Brokowicz, forte come la verità Sabato alle 21 su Canale 5 Acqua di Gio Giorgio Armani Al centro della settimana c'è Andriy Shevchenko Domani su Corriere della Sera Magazine La prima perché c'è l'orzo e l'avena La seconda e la terza per la segala e il frumento La quarta forse per il riso Leggere e croccanti Le fette armonia di cereali molino bianco Riscopriti genuino La prima perché c'è l'orzo e il frumento Time is mine Bomme Mercier Raffreddore? Il naso chiuso ti crea problemi a respirare Prova Britrite Vapor Shot Il nuovo inalatore di vapori balsamici sempre pronto all'uso Che libera il naso con la massima rapidità E per la notte Prova l'efficacia di Britrite Cerottini Nasali Balsamici Cerottini Nasali Britrite e Vapor Shot Respirare bene per sentirsi bene Adriana Questa la mandiamo a tutti MaxiCart Auguri Team 1500 auguri a meno di un centesimo l'uno 500 minuti, foto e sms Chateau Chateau Dio Regalatevi tutto Da Euronics Affari da sogno su TV al plasma Cellulari, computer E paghi solo da ottobre 2005 Euronics E dove se no? Qualsiasi piatto prepari con il tuo Brown Mini Pimer Adesso rimane fresco fino a tre volte più a lungo Il rivoluzionario sistema sottovuoto di Brown Conserva ermeticamente i tuoi cibi L'aria resta fuori Dentro ci sono solo qualità e freschezza Nuovo Brown Mini Pimer Prepara e mantiene freschi i tuoi piatti Ippopotamo e blocchi mille scoperte da Fisher-Price C'è un piccolo grande mondo dentro Linea blocchi mille scoperte da Fisher-Price Allora, cappelletti in brodo In brodo? Sì E poi i tortelloni Non so come farli I tortelloni Mi chiedi al direttore che non ho 12 ore in 15 anni Buonasera Buonasera Per fortuna abbiamo tante altre stelle Le stelle del grande cinema, dello sport, dell'animazione Per un Natale ricco di emozioni Sky ti sorprende sempre Miracle, l'alba del nuovo giorno Lancome I got it The Blues, man I got three shows tonight We're gonna have no fun until five o'clock I say you I say you and me in here I say us I say us mix white and black And it's not a day we don't care if we all We get along whatever you say We won't put long click it by five Turn the black out, black and gray Turn the black out, black and gray Sony Cybershot Un program offerto da Votan Gas Il sole blu Che vi augura Buone feste Benvenuti a Meteo 5 Le previsioni per domani Bello su quasi tutto il nord Ancora piogge invece su gran parte del centro sud A causa dei venti di scirocco Sospinti sull'Italia da una depressione tra la Sardegna e la Sicilia E che porterà piogge su Sardegna e al sud Anche nella giornata di venerdì Nella notte piogge su basso Piemonte, riviera di Ponente, isole e al centro sud tranne Toscana e coste laziali Al mattino piogge su Conese, Lazio, Isole, Marche, Abruzzo, Molise e al sud e nebbie su Lombardia e Veneto Al pomeriggio piogge su nord-est della Sardegna, al centro sud tranne la Toscana, ventoso su Ionio e mari di Ponente Nella sera piogge su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, Calabria e nord-est della Sardegna Previsioni e grafica Epson Quando è il tuo compleanno? Mai avuto un compleanno? Devi da 11 anni Sembra così vero? Li ha sempre avuti, fin dall'inizio Sei una macchina Sono un bambino Ma ora non può più tornare indietro Sta lontano da tutte le persone, solo quelli come te, sono sicuri? Dovrà affrontare un lungo viaggio Alla fine del mondo Alla scoperta della verità suprema Ci odiano, lo sai, gli umani Perché quando la fine arriverà, noi rimarremo nient'altro Alla e Joel Osment Jude Law In un film di Steven Spielberg A.I. Intelligenza artificiale Prima TV Canale 5 Domenica alle 20.40 Passa a Vodafone A Natale La ricaricabile costa le metà Il Natale Vodafone è tutto intorno a te Grana Padano Grana Padano Ti sorprende con ogni sapore Anche con quello del Natale Ma gli hai comprato un nuovo gioco? Ma no È nelle scatole Primigi Primigi Prima giochi Poi corri The new bag From Braille Say C-bone Lovers say that in France Ci sono due anime, Muncherie La croccantezza del cioccolato E dentro il calore che ti scioglie Mmm, c'è sì buono Because it's so, so good Scopri Ego De Lunghi con Sistema Nespresso Scopri il piacere di scegliere fra 12 aromi selezionati Una capsula Un semplice gesto Per il piacere di gustarsi Mmm, di offrire un espresso a regola d'arte Ego De Lunghi con Sistema Nespresso Il piacere del tuo espresso De Lunghi Living Innovation La pasta ha un nuovo amore I piccolini Barilla Piccoli nella forma Grandi nel gusto Da condividere con chi ami Dove c'è Barilla C'è casa Un royale D'Adriano A Natale Regala un telefonino multimediale A partire da 99 euro Gratis 80 euro di MMS I box E suoneria Mi ami Ma ieri Grazie a Giorgio Armani Al maestro Pavarotti A Tomba Grazie a tutte le persone E agli avvenimenti Che negli ultimi vent'anni Hanno ispirato domande grandiose Trivial Pursuit Festeggia i suoi vent'anni Con l'edizione speciale Gli ultimi vent'anni In una scatola Da Parker Così belle che ti dispiacerà regalarle Nuove prepagate San Paolo Subito tu e nelle filiali San Paolo E delle banche del gruppo Notizie incredibili Lunedì Un'altra rapina in banca Ma le incredibili Opel Zafira e Meriva Hanno sventato il colpo Venerdì Un orribile monstro Ha seminato il panico in città Ma le incredibili Opel Agila e Meriva Lo hanno neutralizzato Il film Disney Pixar L'Incredibile Ti aspetta al cinema Si va in scena E dai concessionari Opel Incredibili prezzi E in più finanziamento Senza anticipo E DVD portatile Sabato e domenica Incredibili premi Per tutta la famiglia Ma chi è? Non farne un dramma Oggi c'è il nuovo Omino Bianco Oxy Smacchiatore multiuso L'unico che puoi utilizzare Come smacchiatore Ad azione istantanea Su divani E tappeti E come Pretrattante sui capi Nuovo Omino Bianco Oxy Tranquilli Smacchia sicuro Omino Bianco Oxy E anche liquido Speciale per lavatrice Papà Natale Ha portato il Il Pandoro Paluani Con Paluani Il Natale È più buono Passa ad un telefonino iMode E parli gratis Tutto il 2005 iMode You can iMode Solo con Wind Acqua di Joe Giorgio Armani Attiva Vodafone Christmas Card Hai ancora tempo Fino al 12 dicembre C'è una cosa Che una famigliola Di archeologi felici Non dovrebbe mai fare Risvegliare Un malvagio temone egizio Così hai mescato La prossima apocalisse Specialmente Se Ma io le odio Il nemico È una vecchia conoscenza Ma con poteri Tutti nuovi Ce lo siamo già Visto brutto Questo effetto Bravo mamma Questo me l'ha insegnato papà La mummia Il ritorno Lunedì alle 21 Su canale 5 Non è Un compito facile Fare il padre La prima perché c'è l'orzo e l'avena La seconda e la terza Per la segala e il frumento La quarta Forse per il riso Leggere e croccanti L'effetto e armonia di cereali Molino bianco Riscopriti genuino Passa a Vodafone A Natale La ricaricabile Costa le metà Il Natale Vodafone È tutto Intorno a te Macchie Non farne un dramma Oggi c'è nuovo Minobianco Oxi Smacchiatore multiuso L'unico che puoi utilizzare Come smacchiatore Ad azione istantanea Su tivani E tappeti E come Pretrattante sui capi Nuovo Minobianco Oxi Tranquilli Smacchia sicuro Omino bianco Oxi È anche liquido Speciale per lavatrice Televisori a cristalli liquidi Accus D-Sharp Li riconosci Dalla definizione Dell'immagine Garnier Fructis Idralis Il programma Lisciante Ai microoli di frutti Forza lisciante Anticrespo Anti-umidità Con il concentrato Attivo di frutti I capelli Tre volte più lisci Anche con l'umidità Fructis Idralis La forza lisciante Che resiste all'umidità Garnier I got it The blues I got three shows Tonight We're gonna have more fun Till five I say you I say you and me in here I say yours I say us Make a white and black And it's not a day We don't get it While we get along Whatever you say But it won't be long Click it by far Turn the black out Black is gray Turn the black out Black is gray Sony Fab Shop Al centro della settimana C'è Andriy Shevchenko Domani Su Corriere della Sera Magazine Ma cosa è successo? È tutto allagato Guardi quanto calcare Ma lei lo usa Calfort? No, ne uso uno economico Solo Calfort garantisce La protezione totale Calfort è l'unico anticalcare Raccomandato dai produttori Di lavatrici Quelli economici Non li raccomanda nessuno L'unico raccomandato Papà Natale Ha portato il pan Il pan d'oro Paluani Appena Take it out To the sky Con Paluani Il Natale È più buono Femme Individuelle The new fragrance For a woman By Mont Blanc Sai che c'è di nuovo? Io ne scelgo uno Più vivace I sing Amore Oggi Bel Paese È anche vivace Per dirti Tutta la morbidezza Che ami Con quel tocco Di sapore in più Vivace Sempre Bel Paese Conosci anche tu problemi Come il calcare E lo sporco ostinato Finalmente c'è Chilid Bang Il super pulitore universale Una sola spruzzata E le piastrelle Torneranno splendenti Come nuove Le incrostazioni Su rubinetto E il lavello Non saranno più Un problema Con la sua formula In schiuma Chilid Bang Pulisce facilmente Il calcare E i residui di sapone Pulizia profonda Per metallo Vetro Ceramica E piastrelle Prova la sua Efficacia straordinaria Nuovo Chilid Bang L'esplosione Del pulito In tutta la casa Nuova Citron C4 Tecnologia viva Scoprite Tele il 15 E il 16 gennaio Vi presento mia figlia E' sempre attaccata Al telefono Mi fa disperare Così ho deciso Di abbonarmi A Tele2 Ora chi la scolla Più dal telefono Confronta le tariffe Al minuto Per le urbane di giorno Esclusi bonus di traffico Degli operatori La tariffa al minuto Con Telecom Italia E un centesimo e novanta Con Tele2 Solo 1 e 10 Abbonati Al 1922 E se ti abboni Entro il 31 dicembre Tutte le domeniche Puoi parlare gratis Con la tua città Per tutto il 2005 Abbonati oggi Al 1922 Per i due Perché pagare di più? Non l'avresti mai fatto Ma da oggi C'è il nuovo Ace Oxymagic Lo smacchiatore Multiuso All'ossigeno attivo Che frizza E anche alle macchie Più difficili Puoi dire Sayonara Nuovo Ace Oxymagic La porta dell'ossigeno La sicurezza di Ace Raisse Un uomo Un nome Una garanzia Ci penso un'altra cosa Comendatore Ci ho pensato Una nuova divertente serie Benvenuti a Funeral Show Il vostro appuntamento quotidiano con la morte È un hacker 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 Forse l'hanno rapito gli alieni Ezio Greggio Seguer O la va o la spacca Regia di Francesco Massaro Da mercoledì alle 21 Su Canale 5 Morellato Gioielli da vivere Un programma offerto da Vultangas Il sole blu Che vi augura Buone feste E anche quest'anno Ci saranno le solite pantofole Ma che regalo prezioso Mi ha fatto 4 salti in padella Un pacco con 2 confezioni Da 550 grammi E una è il regalo Tortellini Ravioli Agnolotti Da 4 salti in padella Findus un fantastico regalo per te In ogni pacco speciale di ravioli Tortellini o agnolotti Una confezione in regalo Però voglio anche il principe Un panino Per la prima volta Tutte le più belle canzoni di Battisti e Mogol In uno splendido cofanetto Più 3 inediti Le avventure Lucio Battisti e Mogol E la fiamma Si alza ancora dentro me 50 brani 3 cd Passa ad un telefonino iMode E parli gratis tutto il 2005 iMode Solo con Wind Laura Pausini Resta in ascolto Il nuovo album Acqua di Gio Giorgio Armani Regalati un Natale Il nuovo album Al centro della settimana C'è Andriy Shevchenko Domani Su Corriere della Sera Magazine Televisori a cristalli liquidi Acqua di Acqua di Sharp Li riconosci dalla purezza del suono Lontano Lontano Oltre Milano Paolo Conte E Legia Il nuovo album Passa a Vodafone A Natale La ricaricabile costa le metà Il Natale Vodafone Non è tutto intorno a te Cari amici Tra poco dal Teatro Parioli in Roma Andrà in onda una nuova puntata Del Maurizio Costanzo Show Prima però vi voglio ricordare Che domani sera Barbara D'Urso Condurrà la nostra avventura A più tardi Un programma offerto da Votan Gas Il sole blu Che vi augura Buone feste Attiva Vodafone Christmas Card Hai ancora tempo fino al 12 dicembre Il vincitore Del grande fratello 5 È Jonathan Il vincitore Il vincitore Grande fratello La nostra avventura Domani alle 21 Su Canale 5 È in edicola La rivista ufficiale Di Grande Fratello E dall'11 dicembre Il secondo DVD Con i segreti della casa Cari amici Non mancate la nuovissima Spassosissima edizione Di Paperissima Uno spettacolo elegante Comico ma elegante Per tutta la famiglia Paper internazionali Grandi ospiti I vostri errori Gli errori di Michelle Le papere di Jerry Ma quali papere di Jerry Lascia fare Ma ce ne può Lascia fare Ma come lascia fare Regia Vuoi allargare Ma che regia Ma cosa vuoi allargare Regia Allargate un attimo Ma no Ma cosa Ma se eravamo d'accordo Ma dai Ma se mi obbligate a fare Ma non è possibile Jerry Non è possibile cosa Ma come c'è Da questa mica Una papera Questo è un errore Che mi avete provocato voi Paperissima Un programma di Antonio Ricci Venerdì alle 21 Su Canale 5 Un royale Da Adriana A Natale Regala un telefonino multimediale A partire da 99 euro Gratis 80 euro di MMS I box e suoneria Mia Ma ieri Un panino Per la prima volta Tutte le più belle canzoni Di Battisti e Mogol In uno splendido cofanetto Più tre inediti Le avventure Lucio Battisti e Mogol 50 brani 3 cd